Dai grazie, grazie a tutti di essere qui, non ci aspettavamo tutta questa gente, non ci aspettavamo, tanti eccellenze anche per la novia Oscar, è un bel piacere, spero che questo piccolo trailer del documentario sia stato interessante, Gianluca ha fatto un grosso lavoro, si è accantinato per due anni, ha voluto sapere tutto di voi ed è riuscito alla fine a trasmettere con delle immagini tutto il risultato di queste lunghissime chiaccarate che abbiamo fatto, è una cosa che anche per noi è emozionante vedere perché finché uno la vive giorno per giorno fa un certo effetto, ma poi rivederla raccontata da un altro perché però se sempre te fa tutta un'altra effetto. So ancora guardare in alto e parte il mire di cielo, mentre pisa si manda in corrente, e poi sono un'altra effetto. Grazie a tutti quei giorni qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui la guardarci dentro. Questi anni è il tuo regno a via, con le macchine e le patriste, i botti e i saluntari spani. E' il tuo regno è successo. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi. Gli altri sanno ancora vivendo, e noi qui c'è il risuonamento e forse canto almeno contro noi.